Ciao a tutti ragazzi, sono Val03 Come potete vedere, questi sono tutti i miei giochi della Playstation E io adesso ve li recensirò tutti In realtà non sono tutti Però vi recensirò i primi due che non ho adesso qui con me E sono Need for Speed, The Run E... aspettate Ah, sono in tre Poi c'è PES 15 E c'è poi WW2017 Ragazzi, sono tre giochi Che secondo me sono belli Però Need for Speed gli do 7 PES 2015 gli do 6 e mezzo E... WWE invece gli do pure a lui 7 Però adesso partiamo con il primo gioco Allora, il primo gioco è FIFA 14 Brasile Mondiali E ragazzi, che dire Se facessero i giochi FIFA così di questa grafica Meriterebbero tantissimo 7 Mettiamo qua Poi GTA 4 GTA 4 è uguale a tutti gli altri GTA Niente da dire Però bella, bella la storia Ci sono dei bug che hanno, secondo me, migliorato il gioco Per esempio il bug dell'altalena Molto divertente da farlo Cazzeggio molto vario E anche il famosissimo ospedale delle stragi E che dire ragazzi Questo è 7 Anche questo è un 7 Poi c'è PES 2012 PES 2012 Veramente bellissimo Come gioco Grafica non male Non male ma non bellissima Meglio comunque quella di FIFA Vabbè, scusate se non mi... Non prende a fuoco Non si mette a fuoco Però comunque È un gioco veramente bello E poi c'è la modalità Patron Che è l'unico gioco che ha la modalità Patron Cioè la modalità presidente E vabbè ragazzi Io gli do 6 e mezzo Cioè Bel gioco Poi c'è Uncharted 2 Questo è uno dei miei preferiti Peccato per l'online Che non... A pagamento E vabbè Probabilmente non lo potrei neanche fare Però è una grafica bellissima Per essere un gioco del 2009 Ma niente Anche la storia Tutto mi ha lasciato A bocca aperta 8 8 Poi FIFA 17 Mi ha deluso tanto La grafica non mi è piaciuta Un solito gioco di FIFA Scarso Della Playstation 3 E secondo me L'ho pagato troppo 70 euro E per me Questo è un 5 Non è una sufficienza Ma è un'insufficienza Poi c'è Questo Capcom e Marvel Versus Marvel Grafica non è niente male Vabbè Gioco carino Colorato E tutto Ma alla fine Non è niente di che Niente di grandioso 6 6 Dante e Sinferno Un'altra insufficienza Non mi è piaciuto per niente Viscerà il game Grafica così e così Un po' vecchio Del 2010 Riprende la storia Dante Alighieri Ma sinceramente Da 1 a 10 Io gli darei 5 Anche lui 5 Invece FIFA 16 E' uno dei migliori FIFA Decente che ha avuto Più o meno La grafica era migliorata Rispetto a FIFA 15 Poi c'era comunque il draft E vabbè Sì dai 6 Più Se non merita Non ce l'alziamo troppo Uncharted 3 Anche questo finito Come Uncharted 2 Bellissimo Storia dettagliata Grafica bellissima Per il 2011 Sempre la solita pecca Però L'online Vabbè 8 Non c'è niente da dire 8 Poi c'è Dragon Ball Brass Limit Che bello Bellissimo Gli darei 7 Però la pecca E' appunto Guardate la grafica Per essere del 2008 E' fantastica Però l'unica pecca E' il fatto che Non c'è la saga Di Majin Buu Quindi anzi Non potrebbe essere Definito Dragon Ball Z E quindi Gli diamo Un bel 6 Più 6 più Poi PS 18 PS 18 E' un gioco bellissimo Per essere PlayStation 3 L'hanno migliorato Alla faccia Di FIFA 18 PlayStation 3 Mi piace tantissimo Costa meno Rispetto a FIFA Niente da dire Grafica Ottima Secondo me Bel 7 Poi Vediamo Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Xenoverse Io gli dovrei dare 9 O 10 Però Io preferisco Siccome non l'ho mai finito Dagli 8 A parte che Il personaggio Lo create voi Lo impersonate voi E potete scegliere Tra la Mechiano Tipo Majin Buu Vabbè Tipo Freezer Poi O umano E diciamo C'è Bellissimo Diciamo E' una serie Contorti Dragon Ball E voi dovete salvare Insomma Dovete riportare Alla normalità La storia di Dragon Ball Perché L'hanno modificata Diciamo Questo è un po' In breve E invece C'è GTA V Che forse E' bellissimo C'è la grafica E' fantastica E' stato portato Bene Su Playstation 3 Però Non è alla fine Il solito GTA C'è Forse anche qualcosa 6.000 GTA 4 Però gli do 7 Comunque Come GTA 4 Poi Ci sta Call of Duty Modern Warfare 3 Non mi ha fatto Impazzire Però mi è piaciuto Online niente male Ma Non si merita Non si merita un 7 Perché comunque Non è che sia Un gioco da impazzire Anche per la sua storia Che è molto corta Per me E gli do un 7 E meno 7 meno Per lui Poi Aspettate che c'è C'è Mood Night Club Questo è un signor gioco Ragazzi Un signor gioco di corsa Si merita Un 7 Perché te la costruisci Tu la storia In pratica Perché Puoi comprarti macchine Puoi fare quello che vuoi A Los Angeles Mezzanotte C'è Puoi fare corse Clandestine C'è anche la polizia La grafica Non è niente male Del 2008 Ragazzi Bellissimo 7 Poi c'è FIFA 13 Ragazzi La grafica Non è male Il gioco È un po' vecchio Però Veramente Non c'è niente 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 da dire Anzi Secondo me Fa una pippa A FIFA 17 E FIFA 18 PlayStation 3 E gli do Un bellissimo 6 e mezzo Perché è veramente Bello Poi PES 2017 Secondo me È uguale a PES 2018 Vabbè È un po' Qualcosa in meno Però comunque È la stessa cosa Però noi abbiamo La patch E con la patch Sarebbe tipo Un 7 Un 7 e mezzo Ragazzi Io dico 7 e mezzo Perché abbiamo la patch L'ultimo gioco È PES 2014 Giusto Sì 2014 E diciamo Che è bello Sì Tutto quello che voglio io La grafica Non è male Però C'è un problema I giocatori Come sono fatti E Innumerevoli Bug E per questo Gli do 6 più Vabbè ragazzi Questi sono tutti i giochi Poi vabbè 3 ne mancano E Da Vale03 È tutto E ciri ciao Ciao